Va bene. Buongiorno a tutti, io sono Alberto Monge, uno dei docenti di questo corso di tecnica e di programmazione. Mi vedrete un po' a lezione, tipicamente il mercoledì, dove faremo insieme principalmente degli esercizi e poi anche ci sarò in qualche laboratorio più avanti. Quindi, dicevo, vedremo molti esercizi al mercoledì, direi. Il mio consiglio è quello di provare a farli insieme a me. Io andrò sufficientemente piano per permettervi di provare insieme a me a fare gli esercizi e secondo me è molto importante che voi proviate a farli. Se vi sporcate le mani fin da subito, vedrete che riuscirete a portare a termine i vostri esercizi in modo più efficiente. Va bene. In questa prima lezione vediamo nostra, vediamo un primo esercizio un po' più complesso in JavaFX di cui vedete le specifiche a schermo, dovreste vederlo, che si chiama Indovina Numero, è un gioco. Leggiamo insieme queste specifiche e poi andremo a creare da zero il progetto e a sviluppare il codice. Quindi realizzare un programma JavaFX in grado di permettere all'utente di giocare ad Indovina il numero. In ogni partita il programma deve tirare a caso un numero tra 1 ed Nmax, Nmax è un parametro che il programma conosce, e l'utente deve tentare di indovinare questo numero segreto. Ad ogni tentativo il programma potrà rispondere in tre modi. Ovviamente se l'utente ha indovinato, il programma dirà all'utente il numero esatto e la partita in quel caso termina. Altrimenti il programma può prevedere dei feedback troppo basso, troppo alto, a seconda del tentativo dell'utente. L'utente ha un numero di tentativi limitato, Tmax, un altro parametro del programma, e in ogni momento il programma visualizza il numero di tentativi ancora disponibili all'utente. Quindi in sostanza la partita può terminare o perché il numero è stato indovinato, oppure perché sono stati esauriti tutti i tentativi. Quindi in questo caso il programma mostrerà il numero segreto e ovviamente dirà all'utente hai perso. Al termine di una partita ovviamente se ne può iniziare una nuova con un altro numero casuale, quindi il programma dovrà tirare a caso un nuovo numero e tutto il processo ripartirà da zero. Ci sono poi delle estensioni possibili, magari alcune se abbiamo tempo le vediamo, altrimenti potrete cimentarvi voi a casa a fare queste estensioni. Va bene, mi sembra sufficientemente chiaro, partiamo proprio da zero, quindi andiamo a creare un nuovo progetto Maven. Quindi se qualcuno di voi ancora non sa ancora bene come si fa a creare un nuovo progetto, questa è l'occasione giusta per impararlo. Quindi dal menu file di Eclipse creo un nuovo progetto Maven. Lasciamo la default workspace location, questo vuol dire che il progetto verrà creato nella cartella vostra che avete definito per il vostro workspace. Next. Siamo qui a selezionare un archetipo. Che cos'è un archetipo? In sostanza è un template che ci permette, che ci dà già alcune cose, alcune classi già preimpostate, ci facilita un po' la vita. Come detto abbiamo un nostro archetipo, proprio per il nostro corso, quindi se io vado a scrivere TDP qui, dovrebbe saltarvi fuori questo archetipo specifico per il nostro corso. Attenzione, dovete essere ovviamente connessi a internet, perché altrimenti non riuscite a recuperare questo archetipo che è ospitato su un server centrale. Lo selezioniamo, clicchiamo Next e abbiamo la schermata per inserire alcuni dettagli relativi al nostro nuovo progetto. Il gruppo ID, vi consigliamo di lasciare sempre it.polito.tdp, quello che identifica il nostro gruppo, diciamo così, mentre l'artifact ID identifica il programma vero e proprio, in questo caso cambierà ogni volta, quindi diamo un nome a questo esercizio, chiamiamolo indovina numero. Vedete che l'unione del gruppo ID e artifact ID definisce il nostro package name, cioè la nostra cartella dove andranno a essere inserite tutte le nostre classi Java. Andrea mi chiede nella chat, io la versione 2.0.0 dell'archetipo, va bene lo stesso? In sostanza cambia poco, abbiamo migliorato alcuni bacchi dell'archetipo, quindi forse cambia qualcosa nell'fxml, ma intanto noi l'fxml lo cancelliamo tutto e lo ricreiamo da zero, quindi dovrebbe andare bene lo stesso. Alternativamente puoi cercare di recuperare la versione nuova, dovresti trovarla se scrivi tdp, la versione 2.0.0, altrimenti se vado indietro puoi provare a fare add archetype, è tutto specificato nelle istruzioni del software che trovate sul nostro sito e ovviamente nella versione metti 2.0.2 e a quel punto dovresti recuperare l'archetipo l'ultima versione. Ok, andiamo avanti, qui va tutto bene, possiamo cliccare finish. Allora, l'Eclipse ragiona un attimo e ci crea questo progetto, come vedete questo progetto include già delle cose, vedete il nostro package, con all'interno tre classi. Abbiamo la classe entry point, che è veramente da dove parte il nostro progetto, quando noi lanciamo il nostro progetto. In realtà c'è anche una classe main precedente, quindi è questa che dobbiamo far partire. Vi ha spiegato il professor Corno nelle altre lezioni che questo è solamente dovuto a un problema di librerie, c'è stata questa necessità di splittare in due questi file. Comunque, in sostanza, voi lanciate il main e quello che fa il main è lanciare la nostra classe entry point. Oltre a questa classe abbiamo poi ovviamente il controller, il controller che si collega, diciamo così, alla nostra interfaccia grafica. Dove è la nostra interfaccia grafica? È nella cartella risorse fxml. Eccola qua. Questo è il file fxml dove c'è il design, diciamo così, della nostra interfaccia grafica. Benissimo. Questa è la struttura del nostro progetto. Direi per partire iniziamo da progettare la nostra interfaccia grafica. Allora, in un mondo dove, parallelo, dove tutto, sì, lo ingrandisco sicuramente, il font. Purtroppo forse non riesco a ingrandire questa parte di Eclipse, ma non è meno importante. L'importante è il codice. Un'altra domanda. La necessità di ispettare due classi è dovuta da Java, da Eclipse, da, diciamo, da Java, dal, sì, direi proprio da Java, non tanto da Eclipse, quindi dalla libreria Java in sé. Comunque, non ce ne preoccupiamo. Noi sappiamo che lanciamo il main e basta. Dicevo, in un mondo parallelo, dove tutto funziona alla perfezione, io potrei fare così, tasto destro sul file fxml, open with SimBuilder. Ok? Questo funzionerà probabilmente su Windows, purtroppo sul Mac, come ho io, come qualcuno forse se ne è già accorto, non funziona, perché facendo così mi apre SimBuilder, ma senza aprirmi in realtà il file. Vedete che non c'è niente, non ha aperto il file, ha aperto solamente il programma. Purtroppo pare essere un baco del programma, quindi non ho soluzioni alternative al momento. Probabilmente verrà risolto nelle prossime versioni. Quindi per Windows non c'è problema, per Mac c'è questa rogna. Come facciamo? L'unico modo è da dentro SimBuilder, dove sono io adesso, aprirmi il file fxml corretto. Quindi faccio file, open, e qui devo andare a beccare il mio file fxml nella cartella del progetto. Dove sta il mio progetto? Abbiamo detto nel mio workspace. Io so che il mio workspace è nella cartella Alberto Eclipse Workspace. Vedete che qui c'è la cartella del mio progetto. Quindi se io vado, indovina il numero, source, quindi nei file sorgenti, main, il file fxml è una risorsa, quindi vado nelle risorse, fxml, e seleziono il file corretto. Lo so, è un po' noioso da fare, però purtroppo non possiamo fare altrimenti. Open. Vedete, mi ha aperto il file template che l'archetipo nostro ci crea ogni volta. Ora, noi non vogliamo questo tipo di interfaccia e quindi semplicemente andiamo a cancellare tutto quello che c'è per poi crearci la nostra interfaccia. Allora, come vedete, abbiamo un elemento esterno, il nodo radice, diciamo così, della nostra interfaccia, che è un border pane. E così è un border pane e semplicemente un contenitore che ci permette di inserire dei contenuti in vari punti della finestrella che andremo a fare. Quindi vediamo, possiamo inserire degli elementi in alto, a sinistra, a destra, al centro o in basso. Ad esempio, possiamo cercare qui tra i componenti una label, la prendiamo, la inseriamo in alto e nel menu apposito, quindi nelle proprietà di questa label, possiamo cambiarne il testo, ad esempio, dare un titolo alla nostra finestrella. Indovina il numero. Ok. Quindi abbiamo una label in alto del border pane. Poi ragioniamo un attimo che cosa ci serve in questa interfaccia. Beh, sicuramente ci serviranno alcuni bottoni e alcuni campi di testo per permettere all'utente di iniziare una nuova partita o di inserire un nuovo tentativo. Questi componenti possono essere messi nella finestrella in vari modi. Il modo più semplice è quello di ragionare in termini di V-box e H-box. sono due componenti che possiamo trovare in SimBuilder che ci permettono di organizzare i nostri componenti aggiuntivi in colonne e righe. In particolare, io posso prevedere un elemento V-box esterno che vado a inserire al centro. questo elemento V-box conterrà poi a sua volta tante righe, cioè tanti H-box. Ogni H-box a sua volta conterrà, quindi ogni riga conterrà quello che vogliamo, dei campi di testo, dei bottoni, eccetera. Possiamo ad esempio prevedere un H-box qui in alto che contenga ad esempio le seguenti cose. Un bottone da cliccare per iniziare una nuova partita e magari un campo di testo che visualizzi i tentativi rimasti per l'utente. Allora, la traccia dell'esercizio, scusate, rispondo a una domanda, non è presente da nessuna parte, ce l'avevo solo io in locale. La caricherò subito dopo lezione insieme al codice, ok? Ma intanto più o meno ce lo ricordiamo. Poi ripeterò volta per volta le specifiche. Usare un H-box all'interno di una V-box equivale ad usare un grid pane ni, nel senso che con questa metodologia di V-box, H-box riusciamo a creare solo un layout con una singola colonna e tante righe. È vero che le righe poi possono contenere tanti elementi, n elementi, però non riusciamo a incolonnarli bene, mentre con un grid pane riusciamo a fare cose più sofisticate tipo mettere le cose allineate a destra, al centro, a sinistra, ok? Quindi un grid box, un grid pane, scusate, sicuramente più efficiente dal punto di vista visivo, ma per fare le cose semplici in questo momento iniziamo con i V-box, H-box. Ok, dicevo, inseriamo un H-box, un primo H-box all'interno del V-box e dentro di questo H-box andiamo a metterci innanzitutto un bottone, un bottone per iniziare una nuova partita, quindi prendo il bottone e lo trascino all'interno dell'H-box. Ovviamente anche del bottone possiamo cambiarne il testo e possiamo scrivere nuova partita. A fianco del bottone potremmo metterci ad esempio, dicevo, magari una label più un campo di testo per visualizzare il numero di tentativi rimasti. Quindi, label, la vado a inserire sempre all'interno dell'H-box ma sotto il bottone. No, ecco, già sbagliato, comma Z. Niente, non me la fa mettere, la metto prima e poi ok, ci siamo. È sempre un po' difficile trascinare il componente nella posizione giusta ma con un po' di fatica ce la si fa. Quindi abbiamo bottone label. Nella label andiamo a cambiare nel testo diciamo magari tentativi rimasti. Ok, e di fianco alla label mettiamo ancora un campo di testo per appunto visualizzare questi tentativi rimasti. quindi text box mi pare si chiami text field scusate la vado a mettere vicino alla label. Allora, come vedete fa abbastanza schifo perché tutti i componenti sono schiacciati tra di loro. Come facciamo a risolvere questa situazione? Beh, dobbiamo andare sui componenti contenitori sia vbox che hbox direi e andare a specificare nel loro layout che ad esempio la loro altezza e la loro larghezza si debba adattare al contenuto di questi contenitori. Vedete che adesso l'altezza e la larghezza di questi contenitori è fissa 100-200. Noi non vogliamo questo ma diciamo use computed size vuol dire adattati al contenuto che avrai al tuo interno. Stessa cosa facciamo per il primo hbox vedete che anche qui c'è una dimensione fissa noi diciamo adattati o così mi piace già di più. Magari diamo un po' di margini un po' a questi elementi quindi a questo bottone potremmo dare sempre nel layout un po' di margine da destra magari 10 pixel e un po' a sinistra 10 pixel stessa cosa facciamo con la label un po' di margine a destra e magari con questa area di testo diamo anche 10 pixel a destra così c'è un po' di spazio sul bordo. Possiamo anche dare ovviamente del margine all'intero hbox potrebbe essere utile per separare un po' la riga dal titolo allora seleziono l'hbox e gli do 20 pixel di margine dall'alto e magari diamogli anche già un 10 dal basso perfetto questa è la prima riga ovviamente non ci basta ci servono altri componenti dobbiamo permettere in particolare all'utente di inserire un nuovo numero inserire un nuovo numero mi immagino un'area di testo in cui l'utente inserisce un numero e un bottone a fianco con scritto prova ad esempio allora mi immagino un altro hbox sotto questo qui allora prendo l'hbox e lo vado a inserire sempre se ci riesco sotto l'hbox appena creato perfetto di nuovo ricordarsi sempre di cambiare le impostazioni su altezza e larghezza e adesso qui posso andare a inserire un text field per il tentativo eccolo qui e a fianco un bottone per la prova cambiamo il testo del bottone ovviamente quindi andiamo nelle sue proprietà prova e magari diamo un po' di margine al campo di testo quindi 10 pixel da sinistra e magari 10 pixel a destra va bene leggiamo l'ultima domanda prov ma per i tentativi non potremo modificare la label sì ovviamente sì potremmo anche modificare la label e per vedere un componente in più perché non fa ah no scusate ho modificato il padding e non i margini quindi dicevamo margine di 10 pixel da sinistra e margine di 10 pixel a destra e diamo anche un po' di margine all'intera riga verso il basso di nuovo 10 pixel ok è finito direi di no ci manca ancora uno spazio dove possiamo stampare i risultati ok possiamo prevedere magari uno spazio un po' più grande di un text field perché magari questi messaggi vengono stampati uno per riga ad esempio quindi potremmo pensare a una text area a questo punto posso visto che ci sarà mi immagino la text area che ricopra l'intera finestra posso direttamente inserirla sotto l'hbox oppure addirittura direttamente nel border pane nel suo campo bottom ok questa è una un modo di fare questa interfaccia grafica ovviamente ce ne possono essere n tutti corretti questo mi sembra il più facile va bene adesso non basta allora un'altra domanda c'è un modo per allineare orizzontalmente le scritte ad esempio nuova partita e tentativi rimasti oltre a provare a mettere i margini sicuramente sì come detto prima l'ideale sarebbe usare un grid pane ok permette di appunto creare una griglia dove poter mettere i vari elementi allineati ora per semplicità in questo primo esercizio abbiamo visto questa modalità un po' più semplice ricordatevi anche lo dico adesso che il fatto di creare da zero un'interfaccia di modificarla lo facciamo adesso all'inizio perché è giusto che sappiate come funziona nel caso poi dobbiate poi modificare qualcosa al volo ma tipicamente negli esercizi che verranno più avanti nel corso e all'esame l'interfaccia vi è già fornita quindi non dovrete modificarla va bene dicevo cosa manca dobbiamo assolutamente prima di passare al codice ragionare su dobbiamo associare sicuramente degli id degli identificativi a tutti quegli elementi che ci aspettiamo poi di dover manipolare lato codice perché ovviamente lato codice noi andremo ad esempio a recuperare il contenuto di questo text field per capire che numero ha inserito l'utente ok ma come facciamo andare a riferirci a questo text field beh dandogli un id quindi tutti i componenti che noi ci aspettiamo di manipolare lato codice devono essere associati ad un identificativo univoco allora ragioniamo quali sono questi componenti che sicuramente andremo a referenziare dal nostro codice beh il bottone nuova partita direi di sì dovremo accorgerci quando l'utente ci cliccherà sopra e dovremo fare qualcosa quando l'utente cliccherà su questo bottone allora nel tab code vado a dare un id per questo bottone chiamiamolo btn nuova partita questa label invece abbiamo necessità di modellarla direi di no a meno di prevedere una soluzione come il vostro compagno ha suggerito di modifica diretta della label per visualizzare i tentativi ma abbiamo scelto un'altra strada e quindi questa label sta lì solo per identificare il campo di testo successivo ma non dobbiamo utilizzarla al lato codice questa area di testo invece questo text field invece sì perché ogni volta dovremmo andarne a cambiare il contenuto per visualizzare il numero di tentativi rimasti quindi lo ci associamo un id txt tentativi il vostro compagno mi chiede ma non dovremmo scrivere in on action sì dopo faremo anche gli on action ora mi sto focalizzando sugli identificativi quindi sto cercando nella interfaccia grafica tutti quegli elementi che hanno bisogno di un id poi parliamo anche dei metodi di nuovo questo text field ha bisogno di un id sicuramente sì perché dovremmo andarne a recuperare il contenuto e quindi txt tentativo utente così si differenzia meglio dall'altro text il bottone tipicamente i bottoni sempre hanno bisogno di un id perché dobbiamo reagire al loro click e quindi questo lo chiamiamo btn prova l'area di testo anche l'area di testo ha bisogno di un id perché andremo a scriverci dentro txt risultato benissimo abbiamo associato gli id come diceva il vostro compagno non basta ancora perché ok ad esempio per i bottoni noi dobbiamo capire che bottone ha cliccato l'utente ma dobbiamo anche essere in grado di eseguire automaticamente dei metodi del codice quando questi bottoni vengono cliccati quindi possiamo qui nel file fxml specificare quale metodo dovremmo eseguire quando l'utente cliccherà nuova partita qui ovviamente diamo solo diciamo così il titolo del metodo che poi andrà riempito di lato eclipse quindi nuova partita nel on action quindi cosa facciamo quando clicchiamo questo bottone beh invocheremo il metodo do nuova partita ovviamente il nome me lo sono inventato io potete scegliere quello che volete stessa cosa facciamo per il bottone prova invocheremo il metodo ad esempio do tentativo mi sembra sia tutto se non mi sono dimenticato niente fatemelo sapere altrimenti quindi salvo command s e grazie al programma simbuilder ho la possibilità di farmi generare uno scheletro del controller che mi servirà lato ovviamente eclipse view show sample controller scheleto faccio generare anche i commenti vedete questo è lo scheletro del controller che potremo andare a modificare direttamente in eclipse quindi io lo copio copy che idea abbiamo dato al secondo text field una domanda al secondo text field l'ho chiamato txt tentativa utente sì ripeto gli id dei text field quindi il primo text field l'ho chiamato txt tentativi e il secondo txt tentativa utente poi potrete potete anche inserire i vostri nomi non è importante va bene quindi se non c'è nulla in contrario io ora posso ridurre ad icona simbuilder vengo di qua in eclipse e modifico il contenuto della classe controller con lo scheletro che mi ha generato simbuilder quindi incollo lo scheletro direi facciamo una prova proviamo a lanciare il programma e vediamo se effettivamente la sua interfaccia grafica è quella che abbiamo appena appena fatto ed è anche un consiglio provate spesso il vostro programma ok perché se pensate di fare un esercizio e provarlo solo al fondo ad esempio all'esame quasi sempre arrivate alla fine lanciate e non funziona niente meglio provare step by step che tutto funzioni vado sul main e lancio run salviamo tutto la finestra me la mette nell'altro schermo ma io la porto di qua direi di sì l'interfaccia l'interfaccia c'è ed è quella corretta allora rispondiamo alle domande se ai bottoni non si inserisce l'id ma solo il campo on action è sbagliato non è sbagliato allora logicamente l'id ci vorrebbe perché comunque è un componente a cui facciamo riferimento è vero che i bottoni non sempre vengono modificati lato codice cioè noi reagiamo solo all'on action quindi di solito l'on action basta però se volessimo ad esempio cambiare il testo del bottone oppure disabilitarlo o abilitarlo in casi specifici allora quel punto l'id è fondamentale quindi il mio consiglio è sempre di associare un id ai bottoni potrebbe far rivedere da dove ha copiato il codice certamente da sim builder menu view show sample controller skeleton ok torno da clips ingrandisco sicuramente scusate e poi se ci sono errori particolari magari li vediamo li vediamo alla fine va bene iniziamo a sviluppare la logica del gioco allora possiamo iniziare a pensare a un po' allo allo stato del del gioco cioè cosa ci serve modellare nel gioco beh sicuramente abbiamo alcuni parametri che il il programma dovrà dovrà conoscere se apriamo un attimo le specifiche sicuramente sicuramente il programma dovrà sapere nmax quindi qual è il range dei numeri che si possono provare e anche il numero di tentativi direi questi sono due parametri che il programma deve conoscere quindi definiamoci due variabili private sono due variabili intere diciamo che queste variabili non cambieranno almeno per il momento nell'esecuzione del programma quindi usiamo la keyword final int nmax supponiamo di dover indovinare i numeri da 1 a 100 ad esempio in quanti tentativi tmax beh se con quanti tentativi posso indovinare un numero da 1 a 100 secondo voi quanti tentativi mi servono Alessandro dice 10 se gioco bene io direi che ne bastano circa 7 8 cosa intendo per giocare bene giocare bene per me vuol dire sempre puntare al centro dell'intervallo cioè se io la prima volta mi gioco il 50 e il programma mi dice ad esempio troppo basso io riesco a scartare la metà dell'intervallo quindi tutti i numeri sotto 50 li posso buttare via e se io punto sempre al centro dell'intervallo riesco a sicuramente a indovinare in 7 barra 8 tentativi nel logaritmo in base 2 di 100 diciamo 8 per essere conservativi ovviamente se gioco male questa regola non può valere questi sono i parametri che il programma sa poi ci sono ci servono altre variabili per modellare ad esempio il segreto private segreto è di nuovo un numero int segreto ci serve sapere a che tentativo è arrivato l'utente per vedere che non abbia sporato e quindi ci servirà sicuramente un'altra variabile tentativi fatti e poi possiamo prevedere una variabile booleana che ci dica se l'utente è attualmente in gioco oppure no questa vedrete che ci servirà più avanti boolean in gioco ovviamente all'inizio l'utente non è in gioco perché non ha ancora cliccato nuova partita domanda final quindi significa che il valore è una costante sì quindi non cambierà durante l'esecuzione del programma ok vedete che dopo aver definito lo stato del gioco abbiamo i due metodi nello scheletro che sono associati ai due bottoni che abbiamo nella nostra interfaccia quindi il do nuova partita reagirà al click sul bottone nuova partita mentre il do tentativo reagirà al click sul bottone del tentativo partiamo dal nuova partita che cosa dobbiamo fare quando inizia una nuova partita qui abbiamo la gestione inizio nuova partita beh dobbiamo innanzitutto tirare a casa un numero il nostro segreto da far indovinare all'utente dis punto segreto uguale come facciamo a tirare a casa un numero tra 1 e in questo caso 100 qualcuno ha dei suggerimenti potete anche aprire il microfono non è vietato allora possiamo farci aiutare dalla classe math di java esatto math.random vediamo cosa fa math.random magari non leggete bene ma non so se riesco a ingrandire la documentazione ma la potete vedere direttamente sul vostro computer math.random ritorna un double quindi un numero con la virgola positivo maggiore o uguale di 0 e minore di 1 quindi tra 0 e 0,9999 ovviamente questo non ci basta come facciamo a traslare questo numero che va da 0 a 0,9999 a 1 fino a 100 beh un modo è di esatto lo moltiplichiamo per nmax quindi per 100 non basta perché vogliamo partire da 1 e quindi banalmente ci aggiungiamo 1 qui da un errore perché come detto mat.random è un double e segreto invece è un int ma noi sappiamo quello che stiamo facendo e quindi facciamo un cast a intero e abbiamo il nostro numero casuale tra 1 e 100 vedo un errore nella chat per gli errori magari li vediamo alla fine se abbiamo tempo altrimenti li scrivete dopo la lezione se no non riusciamo ad andare avanti ok tiriamo a caso il numero e reimpostiamo lo stato del gioco cioè ogni volta che clicchiamo nuova partita sicuramente i tentativi fatti ripartono da 0 quindi this punto tentativi fatti uguale 0 e se clicchiamo nuova partita l'utente diventa in gioco this punto in gioco uguale true fatto questo possiamo pensare di agire sull'interfaccia grafica cioè quando noi clicchiamo nuova partita ad esempio il campo di testo per i tentativi rimasti dovrà visualizzare appunto il numero di tentativi rimasti che in questo caso sarà tmax quindi qui possiamo avere una prima gestione dell'interfaccia ho cliccato nuova partita e quindi i tentativi fatti scusate non sono quelli rimasti in realtà potremmo prevedere forse meglio avere i tentativi rimasti nel senso partire da ad esempio 8 e diminuire fino a quando si arriva a 0 magari poi lo modifichiamo modifichiamo il nome che trae un po' in inganno per il momento lasciamo tentativi fatti quindi dis.tentativi fatti set text ok tmax mi dà errore perché mi dà errore perché sto provando a impostare un testo con un numero ok quindi ci conviene convertire il numero in una stringa per poterlo impostare come testo lo possiamo fare grazie alla classe integer.parseint tmax cosa fa parseint prende un numero no parsestring parseint tostring scusate stavo facendo il contrario tostring quindi il metodo tostring della classe integer ci permette di tradurre un numero in una stringa mi dà ancora un errore vediamo perché txt no scusate sì sì esatto il nome era giusto txt tentativi avevo usato la variabile al posto del campo di testo grazie per avermelo segnato quindi anche il nome va bene quindi txt tentativi al click della nuova partita conterrà 8 e poi mano a mano andrà a decrescere fino a 0 io direi che per il momento questa parte può andare bene proviamola quindi che cosa ci aspettiamo beh in questo momento poco ma che all'avvio del programma questo campo di testo contenga 8 proviamo vado sul main lancio salvo tutto no non contiene 8 quindi c'è qualcosa che non va chiudiamo torniamo sul controller tmax 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 e 8 ah certo non ho cliccato nuova partita scusate nuova partita 8 direi che ci siamo non abbiamo eccezioni possiamo possiamo andare avanti va bene passiamo al secondo metodo che sicuramente è quello un po' più complicato dove permettiamo all'utente di fare un tentativo c'è una domanda ma avendo messo una label per i tentativi rimasti non dovremmo anche renderla non modificabile dall'utilizzatore sicuramente ed era un passo che volevo fare dopo però grazie per avermelo ricordato vedremo anche questo dopo allora metodo d'utentativo cerchiamo di ragionare cosa dobbiamo fare la prima cosa sarà prendere l'input dell'utente quindi l'utente ha inserito un tentativo ha cliccato sul bottone noi dobbiamo recuperare questo tentativo e andare a provarlo rispetto al nostro segreto che abbiamo impostato qui quindi la prima parte è molto importante ed è la lettura dell'input dell'utente questa parte ci sarà sempre anche ad esempio banalmente all'esame e qui la cosa fondamentale è che non dobbiamo mai fidarci dell'utente cioè l'input deve essere sempre controllato in questo caso ci aspettiamo un numero e quindi prima di procedere con la logica del gioco dobbiamo essere certi che l'utente abbia inserito un numero e non magari una stringa o per sbaglio abbia cliccato un tasto sbagliato e abbia inserito un input non corretto quindi il controllo dell'input è fondamentale e ci va sempre ci andrà da qui fino all'esame allora noi l'input lo prendiamo da un campo di testo e quindi quello che ci arriva è sempre una stringa string chiamiamo questa variabile ts per denominarlo come tentativo stringa ok uguale txt come ho chiamato il campo di testo txt tentativo utente lo copio txt tentativo utente punto get text in questo modo nella variabile ts andiamo a prendere qualunque cosa l'utente abbia scritto nel campo di testo va bene ma sarà un numero e lo andiamo a controllare come facciamo il pattern è molto semplice proviamo a tradurre questo ts in un numero e se per caso si scatena un'eccezione diciamo l'utente guarda che non ha inserito un input corretto come catturiamo le eccezioni con il try catch vedremo dopo che eccezione mettere ma all'interno proviamo a fare questa conversione quindi mi definisco fuori dal try catch una variabile int tentativo e all'interno di questa variabile provo andare a mettere il risultato della conversione che vado a fare su ts come faccio convertire una stringa in un numero mi faccio aiutare sempre dalla classe integer punto parse int quello che stavo cercando di usare prima ts il metodo parse int a partire da una stringa cerca di convertirla in un numero se andiamo a vedere la sua documentazione non so se riuscite a leggere ma questa questa funzione lancia una eccezione particolare chiamata number format exception se la stringa non contiene un intero e quindi noi qui andiamo a catturare una number format exception quindi se tutto va bene e l'utente ha effettivamente inserito un numero noi dentro questo cache non ci entreremo mai e potremmo continuare con il codice che scriveremo dopo altrimenti qui c'è la gestione dell'errore l'utente ha inserito un input sbagliato quindi sicuramente glielo diciamo magari stampando un messaggio nell'area di testo txt risultato punto append text devi inserire un numero non basta però glielo diciamo all'utente sì ma non gli permettiamo di andare avanti cioè non facciamo il controllo perché ovviamente l'input è sbagliato e quindi return questo metodo finisce qui perché l'input era sbagliato domande su questo molto importante il controllo dell'input possiamo avere una traduzione da stringa intero possiamo avere possiamo dover controllare che l'utente abbia effettivamente selezionato un dato da una checkbox possiamo avere varie cose ma il concetto è che l'input va sempre controllato prima di procedere append text cosa fa append text semplicemente appende del testo all'area di testo cioè se l'area di testo è vuota inserirà una prima riga con devi inserire un numero rispetto alla set text non cancella quello che c'era prima ma è abbastanza indifferente possiamo anche usare una set text tanto è un errore cancelliamo tutto non c'è una scelta giusta o sbagliata anziché fare un try catch e gestire l'eccezione non c'è un metodo più efficiente per controllare l'input ma no direi che questo è il metodo più efficiente e più pulito da mettere in pratica sicuramente è il metodo standard per controllare l'input perché abbiamo usato append text e non set text di nuovo dipende non c'è una scelta giusta o sbagliata dipende se vogliamo cancellare tutto quello che avevamo prima o se vogliamo mantenere i messaggi precedenti va benissimo anche la set text se non ci sono altre domande possiamo continuare non ho capito cosa cambia tra text area e text field te lo mostro subito lancio un attimo il programma sostanzialmente un text field è un campo di testo di una sola riga mentre una text area è un campo di testo più grande multilinea quindi dove possiamo stampare messaggi su più righe quindi appunto la pen text possiamo avere vari messaggi uno per riga dell'area di test perfetto ok l'input è giusto controlliamolo prima cosa da fare qual è beh l'utente ha inserito un tentativo valido quindi i suoi tentativi i suoi tentativi crescono cioè ha fatto un tentativo in più incrementiamo this punto tentativi fatti di uno ora controlliamo se questo tentativo è corretto oppure no allora partiamo dal caso semplice la partita finisce se l'utente ha indovinato come faccio? beh con una semplice if if tentativo uguale uguale a this punto segreto corretto in questo caso l'utente ha indovinato cosa devo fare? beh sicuramente dirglielo hai vinto txt risultato risultato punto set text hai vinto ecco magari diciamo anche con quanti tentativi ha vinto ad esempio con concateniamo le stringhe più this punto tentativi fatti più tentativi prof deve aggiornare i tentativi anche nel text field oltre che nella variabile sicuramente lo facevo dopo ma tanto vale farlo qui this punto txt tentativi punto set text come giustamente dice il vostro compagno non basta decrementare la variabile nostra interna dobbiamo anche decrementare il campo di testo nell'interfaccia grafica beh come facciamo dobbiamo prendere quello che c'era e sottrargli uno oppure un altro metodo forse più facile da implementare è fare tmax meno il numero di tentativi fatti quindi integer punto to string ricordatevi che nella set text dobbiamo passare una stringa tmax meno dis punto tentativi fatti torniamo qui ho sbagliato scrivere ho indovinato lo dico all'utente gli dico anche con quanti tentativi ovviamente la partita è finita dis punto in gioco uguale false e poi non andiamo oltre perché la partita è finita e quindi return il metodo finisce qui se non ha vinto invece devo informare l'utente circa la chiamiamola così bontà del suo tentativo devo dirgli se è troppo alto o troppo basso beh anche qui con una serie di if ce la cambiamo quindi if tentativo minore di dis punto segreto dirò all'utente guarda che il tuo tentativo è troppo basso quindi txt risultato punto set text tentativo troppo basso a questo punto devo ritornare devo inserire una return qui oppure no cioè il metodo deve finire qui la partita oppure no nessuno risponde direi di no qui andiamo avanti perché l'utente ok perché l'utente può ancora continuare non ha ancora indovinato né ha finito i tentativi vediamo dopo perché non li ancora finiti else devo specificare i tentativi rimasti si gli ho scalati poi vediamo quella parte lì dicevo qui devo specificare un'altra condizione direi di no perché o era uguale e quindi sarei entrato qui dentro o era minore e quindi avrei detto tentativo troppo basso in tutti gli altri casi gli altri casi ce ne sono più uno che il tentativo sia maggiore del segreto quindi mi basta scrivere else senza specificare tentativo maggiore perché è implicito txt risultato punto append text set text tentativo troppo alto anche qui non devo ritornare mi manca ancora una cosa cosa che non ho controllato forse qualcuno l'ha già detto nella chat c'è ancora un caso che è quello in cui l'utente per cui l'utente ha terminato i tentativi dove posso inserire questo controllo secondo voi cioè mi manca questo if this punto tentativi fatti uguale uguale a tmax ho perso perché ho esaurito i tentativi allora vediamo un po' le varie risposte prima dell'incremento quindi qui il vostro compagno suggerisce di mettere questo controllo qui mentre un altro Mario dice di scherzare ma vorrebbe inserire il controllo qui se non sbaglio no scusate prima di non ho vinto Mario scherzi però in realtà è un posto furbo dove metterlo perché io incremento i tentativi guardo se ho vinto se ho vinto posso anche aver vinto all'ultimo tentativo questo è lecito e quindi se ho vinto benissimo entro qua dentro il gioco finisce se non ho vinto controllo ho per caso esaurito i tentativi se sì termino perché non ha più senso andare avanti altrimenti posso continuare a vedere se il tentativo era troppo basso o troppo alto intanto la prima volta che si entrerà in questo metodo sicuramente posso fare un incremento dei tentativi fatti perché sarà il primo e quindi questo metodo di mettere il controllo prima di non ho vinto ha sicuramente senso dopodiché anche qui non c'è mai un unico modo di risolvere i programmi qualcuno di voi suggeriva di unire le varie if ad esempio con delle condizioni di end sicuramente però un modo può essere questo quindi txt risultato punto set text hai perso di nuovo no è la prima volta che lo diciamo ovviamente hai perso e quindi se abbiamo perso magari stampiamo anche il tentativo punto il il segreto scusate il segreto era due punti più dis punto segreto anche qui la partita è finita dis punto in gioco uguale false e posso chiudere il metodo perché intanto non devo più fare alcun controllo non cambia se incremento i tentativi fatti al fondo del metodo due tentativo probabilmente no ripeto non c'è un unico modo di risolvere questo metodo l'importante è capire bene la logica implementata e essere sicuri che questa sia sia corretta però potrei terminare anche dopo aver dato comunicazione di un numero inferiore o minore sì sicuramente l'importante è terminare detto ciò se io all'ultimo tentativo non indovino non ha senso dire all'utente troppo basso troppo alto perché intanto non potrà più andare avanti quindi tanto vale dirgli subito hai perso questo era il concetto bene possiamo provare il nostro programma per i miei gusti abbiamo aspettato addirittura troppo prima di fare il run quindi vi ripeto sempre provate a rannare il vostro programma a piccoli step ma tant'è troviamolo adesso prof non so se ha risposto alla mia domanda scusate può rispondermi di nuovo Alessandro qual era la tua domanda txt tentativi accettando stringhe non dovrebbe accettare gli int non capisco molto bene la tua domanda txt tentativi è il nostro text field di scene builder quindi lui accetta delle stringhe nel senso che tutto quello che recuperiamo lato codice con il get text è sicuramente una stringa quindi se noi scriviamo 10 nel text field quando facciamo get text quel 10 è visto come una stringa sta a noi puoi trasformarlo in un intero viceversa come chiedi nell'ultima domanda se nel set text mettessi un integer non lo accetterebbe lui vuole possiamo mettere 10 ma 10 sotto forma di stringa quindi 10 tra apici ed è per questo che vediamo se vediamo se c'è esatto ed è per questo che usiamo il to string tmax che è 8 con il to string lo trasformiamo in 8 visto come stringa ok ovviamente qui invece possiamo mettere di spunto segreto che è un numero perché implicitamente quando facciamo una concatenazione di stringhe il risultato della concatenazione è visto come un'unica stringa quindi qui non c'è il caso di fare una una to string esplicita questa è fatta implicitamente altro dubbio non mi è chiaro cosa sia servita la variabile booleana per adesso a niente potrebbe servire più avanti ad esempio nella risoluzione dei punti aggiuntivi che ci sono nella nelle estensioni è vero per adesso non è servita l'ho prevista perché mi sembrava potesse essere utile però effettivamente in questo momento se non ci fosse sarebbe sarebbe lo stesso se mettevo l'ultima domanda se mettevo gli apici più dispunto tentativi fatti lo accettava giusto perché con i tentativi sì lo accettavo probabilmente è un trucchetto ma sì probabilmente sì va bene proviamo questo programma salviamo eccolo qua no così no direi che no non è responsive vediamolo lo rilancio nuova partita tentativi rimasti 8 proviamo a giocare in modo intelligente puntiamo al centro dell'intervallo 50 tentativo troppo alto vuol dire che la parte a destra dell'intervallo quindi i numeri da 50 in su li scarto tutti riproviamo di nuovo al centro 25 no c'è qualcosa che non va come vedete no forse funziona mi sono perso i tentativi rimasti 25 ancora troppo alto proviamo 12 troppo alto ancora proviamo 6 troppo basso quindi dovremo puntare tra 6 e 12 proviamo 9 troppo alto quindi proviamo 7 8 ok era 7 ho vinto con 6 tentativi potremmo domanda sembra funzionare potremmo pulire la casella di testo dopo il tentativo sicuramente sì lo possiamo fare subito quindi se il tentativo va a buon fine quindi se l'input è corretto potrei dire dis punto tentativo utente punto set text ad esempio stringa vuota in questo modo dovrebbe pulire la mia casella facciamo una prova nuova partita 50 vedete mi ha pulito l'area di testo è sicuramente una cosa è una cosa buona e giusta a me da come numero sempre uno risponderti così è un po' difficile sicuramente hai sbagliato qualcosa però se non riesci a trovare l'errore piuttosto mi scrivi in privato e cerchiamo di risolvere il problema potrebbe mostrare come ha randomizzato il numero segreto perché a me da numeri sequenziali da zero in avanti se ti da numeri da zero in avanti probabilmente ti sei dimenticato del più uno cioè io tiro un numero a caso tra zero e 0,99 lo moltiplico per nmax però per portare l'intervallo che parta da uno devo aggiungere appunto più uno esatto sicuramente il segreto zero è fuori dal range non va bene secondo me avete dimenticato questo questo più uno come ho fatto a pulire la casella di testo semplicemente una set text della stringa vuota dopo aver controllato l'input più uno l'ho messo è strano non dovrebbe capitare anche perché se questo venisse zero c'è comunque il più uno e quindi no non dovrebbe succedere se usi questa questo metodo a me non si svuota una casella di testo anche qui assicurati di aver fatto la set text sul campo giusto mi viene da dire ok risolto ok risolto vuoi dimenticare la parentesi benissimo abbiamo ancora qualche minuto e come qualche compagno ricordava nella chat all'inizio della lezione potremmo fare le cose un po' più sofisticate dal punto di vista dell'interfaccia grafica cioè potremmo andare a disabilitare o abilitare delle parti dell'interfaccia grafica a seconda a seconda del del punto in cui l'utente è con il gioco ad esempio se l'utente non ha ancora cliccato su nuova partita ovviamente le altre aree di testo sarebbe bene non fossero utilizzabili perché altrimenti l'utente potrebbe cliccare bottoni scrivere del testo anche senza aver iniziato una nuova partita come facciamo beh dobbiamo tornare indietro un attimo a sim builder mi riapro sim builder allora abbiamo sicuramente questa area di testo che usiamo per visualizzare i tentativi rimasti che non deve essere modificabile in alcun modo dall'utente altrimenti l'utente ad esempio potrebbe barare e aumentarsi il numero di tentativi quindi questa la disabilitiamo una volta e basta rimane disabilitata dove lo facciamo non mi ricordo ma da qualche parte c'è l'opzione per disabilitare un componente vediamo se lo troviamo sarà in proprietà ok direi che la rendiamo non editabile salviamo andiamo a vedere se effettivamente l'abbiamo resa non editabile lanciamo il programma è ancora editabile spesso questo problema nasce dal fatto che Eclipse non si accorge delle modifiche subito fatte da SimBuilder quindi un metodo per risolvere questo problema è aprire il file fxml qui all'interno di Eclipse quindi la vado ad aprire con il text editor di Eclipse andiamo a vedere se nel ok nel text field adesso c'è editabile uguale a false adesso dovrebbe andare infatti non ci posso più scrivere bene quindi ecco questo è un problema che capita spesso se vi accorgete che cambiate qualcosa in SimBuilder ma questa modifica non viene propagata nel programma vero e proprio spesso è perché Eclipse non si accorge delle modifiche fatte lato SimBuilder quindi il trucchetto è aprire il file open with direttamente in Eclipse con il text editor così lui vede le modifiche e inizia a funzionare va bene poi se torniamo un attimo qui come facciamo a disabilitare direi che potremmo disabilitare tutta la riga se l'utente non ha ancora cliccato nuova partita beh potremmo disabilitare l'intero Hbox di default quindi vado sull'Hbox e di nuovo nelle proprietà da qualche parte proviamo a cercarla disable sì c'è il campo disable l'ho cercato qui possiamo cliccarci sopra e vedete che lui di default disabilita l'intero Hbox salviamo ok torno in Eclipse magari mi riapro scusate sposto solo i controlli mi riapro di nuovo il file qui dentro per essere sicuro che veda tutti i cambiamenti ok rilancio il programma e vedo che l'intero Hbox è disabilitato l'utente non ha cliccato nuova partita ovviamente non può fare nessun tentativo allora cosa dobbiamo fare beh dobbiamo riabilitare questa riga quando l'utente clicca nuova partita ora dobbiamo ancora farlo ovviamente adesso abbiamo associato una proprietà all'Hbox e vogliamo cambiare questa proprietà lato codice cosa vuol dire questo che anche l'Hbox avrà bisogno di un ID perché altrimenti da codice non riusciamo a recuperarne il riferimento quindi vado sull'Hbox lo seleziono e ci vado a dare un ID eccolo qua ecco qua FXID chiamiamolo layout tentativo va bene salvo il tutto command s ovviamente quando modifichiamo l'interfaccia grafica in particolare quando aggiungiamo un bottone associamo un ID associamo un action abbiamo la necessità anche di rimodificare il controller e quindi io vado a farmi ridare il mio scheleto del controller show sample controller scheleto e vedo che sicuramente avrò eccolo qua un nuovo ID che ovviamente di là non c'era lo vado a copiare copy copio solo questa parte è l'unica che è cambiata abbiamo aggiunto questo ID quindi lo copio e lo trasporto nel mio controller lo posso mettere dove voglio hbox va importato credo sì lo importo ok abbiamo il nostro riferimento al layout quella riga che abbiamo disabilitato di default cosa possiamo fare l'andiamo ad attivare quando l'utente clicca nuova partita quindi oltre a impostare ad esempio il campo di test tentativi vado ad abilitare il layout set disable mi sembra sì se disable false in questo modo lo andiamo a riabilitare se vogliamo fare le cose precise possiamo disabilitarlo di nuovo quando la partita finisce e quindi quando l'utente ha perso o ha vinto quindi tutte le volte che l'utente o ha vinto o ha perso mettiamo set disable a true ho copiato incollato la riga di prima ho cambiato solo il valore qui dentro mettiamo qui sia quando ha vinto che ovviamente quando ha perso dovremmo esserci facciamo l'ultima prova allora la linea sotto è disabilitata giustamente creo clicco su nuova partita la linea si abilita e quindi io posso andare avanti a giocare in teoria ora sto giocando malissimo ma la riga dovrebbe disabilitarsi ad esempio quando perdiamo tipo adesso ho perso il segreto era 95 e la linea si è disabilitata sembra funzionare tutto allora io direi che per oggi può bastare poi vedremo nelle prossime volte di magari sviluppare qualche estensione vi faccio solo notare l'id dove l'abbiamo rispondo a una domanda scusate prof ma l'id dove l'abbiamo aggiunto nell'hbox sì ho associato l'id all'intero hbox quindi ho selezionato qui l'hbox quello sotto e ho dato un id all'intero contenuto quindi disabilitando abilitando l'intero contenuto di conseguenza si disabilitano o abilitano tutti gli elementi che sono in esso contenuti dicevo vi faccio solo notare una cosa velocissima che è chiamiamolo così un problema nel modo che abbiamo utilizzato per risolvere questo esercizio abbiamo inserito tutto il codice all'interno di un unico file all'interno del controller quindi all'interno di un unico file abbiamo sia la logica del programma ma anche il controllo dell'interfaccia e la gestione di tutte le strutture dati tutto insieme in un unico file questo può creare dei problemi soprattutto poi per esercizi più complicati dove rischieremo di avere dei file enormi con tutto mischiato dove è difficile districarsi tra le varie parti dell'esercizio quindi nelle prossime lezioni vedremo un nuovo modo di organizzare il codice un pattern di programmazione che è chiamato model view controller che ci permetterà di disaccoppiare ad esempio la gestione dell'interfaccia dalla logica applicativa in file ben separati e quindi vedremo anche come risviluppare questo esercizio nell'ottica di questo pattern model view controller rispondo all'ultima domanda poi mi taccio giuro prof se non disabilitavamo la riga quando si perdeva io ho provato a fare un tentativo i tentativi sono andati a meno uno e ho potuto continuare a giocare se è capitato questo hai sicuramente sbagliato un po' la logica del metodo magari hai inserito i controlli nel posto sbagliato ti consiglio di controllare bene la logica del tuo programma caricherò questo codice su github subito dopo la lezione quindi potrai anche confrontare la tua soluzione con la mia quindi la prossima settimana continueremo con le estensioni di questo esercizio o le facciamo per conto nostro in questi giorni allora potete sicuramente iniziare a provare a fare le estensioni per conto vostro nella prossima settimana ristruttureremo questo questo codice con il pattern model view controller e se avremo tempo faremo una o due estensioni però vi consiglio se se volete di iniziare a provare queste estensioni caricherò già oggi la lezione registrata sì subito appena chiudo la inizio a caricarla si può disabilitare anche la textarea tanto non ci dobbiamo scrivere sì non ah sì la textarea del risultato sicuramente sì si può disabilitare una domanda di prima a cui non ho risposto sulle righe di Hbox mi dice che Hbox cannot be resolved to a type probabilmente non hai importato la libreria che è questa cioè io la cancello un attimo vedi che anche a me dà il problema ma io vado sopra la il problema e Eclipse mi propone di importare la libreria e io la importo e vedi che la libreria è qua sopra e adesso non c'è più problema probabilmente era quella ok direi che possiamo chiudere qui stoppo la registrazione e